Sarà una giornata interamente dedicata all'orientamento scolastico, quella che si svolgerà domenica al Palasele di Eboli. Una vetrina a disposizione di tutti gli istituti scolastici in cui esporre attività svolte e risultati ottenuti per rilanciare l'offerta formativa scolastica e l'intero sistema scolastico cittadino. L'appuntamento si intitola Eboli Orienta. Una straordinaria occasione a disposizione delle scuole, degli alunni, degli studenti e delle famiglie alla ricerca di conferme e di orientamento scolastico. Le scuole di Eboli, dagli istituti comprensivi a quelli di istruzione superiore, avranno a disposizione un proprio stand per il quale mettere in vetrina le attività didattiche e l'intera offerta formativa a disposizione di studenti e famiglie. L'appuntamento nasce da una precisa volontà dell'amministrazione che punta al sostegno all'intero sistema scolastico cittadino, storicamente un fiore all'occhiello della città, reso possibile anche grazie alla stretta collaborazione che si è instaurata con le dirigenze scolastiche. Sì, è terzo anno che come amministrazione comunale abbiamo voluto insieme all'assessore alla pubblica istituzione Angela Monica fare un evento unico nella regione Campania. Siamo il primo comune che per terzo anno organizza una giornata totale di orientamento di tutte le scuole boritane, di ogni ordine e grado. E questo avviene grazie ad una grande sinergia con i dirigenti scolastici, con il mondo scolastico e con la capacità anche di fare rete e rappresenti, ha rappresentato fino ad ora quindi fosse l'elemento trainante anche della scuola pubblica della città di Eboli. È un motivo di orgoglio per il nostro territorio, un motivo di valorizzazione di quello che sono anche le premesse dei percorsi di orientamento, di indicazione anche del mondo dell'istituzione che diamo ai tanti giovani di Eboli e non di Eboli perché poi noi abbiamo anche tante scuole superiori oltre poi alle scuole locali e comunali e riteniamo che questo poi rappresenta ancora una volta un ulteriore tassello che come amministrazione comunale mettiamo a servizio della città e dei cittadini. Un evento importante, questo è il terzo anno che l'amministrazione comunale promuove un expo scuole il 16 dicembre al Palasele ci sarà appunto una giornata di orientamento per tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alle scuole superiori perché è centrale per la mission politica della nostra amministrazione appunto il mondo delle scuole. Noi parliamo di un'utenza scolastica di circa 6.000 studenti ed è importante orientare nella maniera giusta proprio per il successo formativo dei ragazzi e quindi supportare le scuole nel miglior modo possibile, quindi come amministrazione riteniamo importante e sostenere le scuole anche nell'attività di orientamento e formazione degli studenti.